Due ville, litigio tra fidanzati e lui lascia l'abitazione. Lei, una 26enne, accecata dalla gelosia, si inventa una tentata violenza sessuale per riconquistare il fidanzato. È il 4 febbraio, quando al cellulare di lui arriva un sms della fidanzata che gli dice che c'è un extra comunitario in via delle piscine. Due ville che la vuole violentare. Il giovane è allarmato, avverte i carabinieri che subito si portano sul posto, ma della giovane non c'è traccia. Raggiunta a casa, si fanno raccontare la storia che dai riscontri appare subito poco chiara, tanto che riconvocata in caserma, la 26enne cede e confessa di aver inventato tutto. La giovane è stata denunciata a piede libero per simulazione di reato e procurato allarme.